Siamo tornati, siamo tornati, siamo tornati Esatto Sembra che stia funzionando Ok, siamo tornati, dateci un check se siamo tornati Io intanto guardo se siamo tornati veramente Sì, diciamo che Se non si è chiusa a live Sei stato talmente cinico, talmente Ok, siamo tornati Siamo tornati ragazzi, scusate C'è stato un... Grazie, grazie team Possiamo dire una marca Grazie team per farmi saltare la rete È successo anche ieri Tre secondi prima dell'inizionare la live con Barbascura Stessa cosa Stato giù tipo dieci secondi Di panico totale Giusto per mandare in panico tutti E poi è tornato Grazie, grazie al cazzo Secondo me l'hanno staccato Tornati, grazie Secondo me l'hanno staccato volentemente Perché non volevano sentirti rovinare anche questa nebulosa Anche questa nebulosa Quindi questa qui è... Quindi dicevo, scusate Torniamo alla nostra voce calda solente Calda e accogliente Calda e scudente Allora questa è la nebulosa Proboscide Proboscide di elefante Che è un nome assolutamente che non rende giustizia Però non dipende come lo dici Perché si dici Proboscide di elefante No, fargliere lo stesso Fargliere lo stesso Sì, sì, sì È un nome da segnato da un cinico Ma tu guardala Se riesci Con degli occhi nuovi Con degli occhi diversi Intanto rispondo su Telegram A quelli che stanno dicendo Non c'è più la live E diciamo siamo tornati Cerca di riconoscere Una figura femminile Di spalle Quei cappelli lunghi Che guarda l'universo Non so se la vedi La testa La spalla La vedo Distintamente Dietro Al Nube di fumo Della baracca Che sta prendendo No, fammela vedere in granite Devo guardarla in granite Dimmi che non è l'immagine più Questa secondo me È l'immagine più poetica Allora dov'è la persona Che sta guardando Allora aspetta Con il mouse si può vedere Perché loro lo vedono Tipo Allora questo No, partita la testa Questa è la testa Ma che cazzo di collo ha Ma no Questa è la testa Questi sono i capelli Questa è la spalla La spalla Questa è la testa Spalla Braccio Braccio E poi questo qua È il vestito Lo strascico del vestito Ha comunque una vita Che non sta bene Va beh C'è l'anoressia dietro Questa roba Ma magari è vista per metà Stai attento Che il messaggio Sulla anoressia Sono messaggi negativi pesanti Poi i bambini E le bambine Si fanno influenzare Dicendo Ah guarda La nebulosa Bimba anoressica O bimbo anoressico Stai riuscendo a farmi sentire In colpa Che guarda l'universo Facciamo così Dalla vita in su Però è bella Vero Sembra Sembra Dai capelli Mi ricorda Come si chiama Conosceva dal pozzo Quella di Ring No Telescopi Così almeno Azzeriamo Quindi questa cosa Vista direttamente Al telescopio Sarebbe in bianco e nero Ed irriconoscibile Allora Insomma Al telescopio In genere Cosa si fa Sì La risposta è sì Se tu adesso Prendi un telescopio Per quanto performante sia Aspetta calma Se hai un telescopio Di estrema Performance Tipo Hubble Ok Quello spaziale Che comunque noi umani Diciamo non possiamo avere A meno che Accediamo A meno che tu non sia un geologo E gli dica Guarda che c'è un geode su Hubble Allora a quel punto Lui Va Allora con telescopi Così performanti Sì perché Raccogli talmente Tanta luce Che anche se ci fosse Un oculare A cui appoggiare il tuo occhio Allora a quel punto Gli estingueresti I particolari colorati Ma un telescopio A terra normale Come quello che posso avere Io per esempio No Non lo vedi Così colorato Lo vedi in bianco e nero E quindi faresti fatica a riconoscerlo Ma cosa si fa Al telescopio Per riprendere anche un po' Per riprendere anche un po' Per riprendere anche un po'